Ciao belli, io sono Fire e oggi vi porterò sul canale come fare su Strumple Guys tutte le modalità finali Laser, Super Slide, Honey Drop, Lavaland e Block Dash Seguite tutto quanto il video ragazzi e vi farò vedere in pochi e semplici trucchetti come fare Allora ragazzoli non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo Per prima cosa ragazzi per non laggare in queste modalità finali Dovremmo andare sulle impostazioni, scegliere il server in cui giochiamo Ovviamente io gioco in Europa quindi metterò il server Europa E dopodiché ragazzi metteremo gruppo e inseriremo i codici che vi dirò Il primo codice ragazzi che andremo a mettere sarà 1212 Una volta messo il codice metteremo unisci Dopodiché ragazzi andremo in questo gruppo in cui potremo fare tutte le modalità finali che vi ho elencato prima E ci basterà aspettare che Lost starti E dopodiché Andremo in partita Ed ecco voi ragazzi Super Slide Come per magia la nostra cara Super Slide Ragazzi riguardo a quanto si usa questa sottospecie di glitch Chiamiamolo così Le mappe saranno totalmente casuali Quindi potrà uscirci Block Dash, Lava, Land, Laser E tutte le altre modalità Sempre finali Ovviamente ragazzi quanto giocherete in queste mappe Potrei giocare sempre con i vostri amici Quindi che basterà semplicemente Dar lo stesso codice che avete inserito al vostro amico E il vostro amico si unirà Ovviamente ragazzi ora mi è uscito Super Slide Però vi farò vedere dopo Che mettendo i codici che vi dirò Che vi lascerò in bio così potrete giocare con i vostri amici Potrete fare tutte le modalità finali che vi ho detto prima Quindi state a guardare Di nuovo andiamo sul gruppo Scriviamo il codice 888 E clicchiamo unisciti Ovviamente stessa cosa Apri la lost e dovremmo aspettare O di che pam in partita Ed ora ragazzuoli tenetevi forte Perché ora come per magia Block Dash Ovviamente ragazzuoli Queste modalità potrete farle all'infinito Basterà mettere ogni volta i codici Che vi lascerò in bio E potrete giocare tutte le volte con i vostri amici In queste modalità finali Molte volte però ragazzuoli Quando andrete a inserire i codici Vi apparirà che i gruppi saranno pieni E questo qua dipenderà Da quanto siete veloce voi a scrivere il codice E dalla vostra connessione Però non dovrete preoccuparvi Perché alla fine rimettendo i codici O rinserendoli Alla fine rientrerete E potrete così continuare a giocare Le vostre modalità preferite Alla fine rientrerete Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.